Tre auto coinvolte e un ferito non grave. E questo è il bilancio di un rocambolesco incidente stradale che si è verificato intorno all'ora di pranzo lungo Viale della Repubblica nei pressi del centro commerciale Il Nuovo Borgo. Un maxitamponamento a catena che ha creato panico e qualche preoccupazione fra gli occupanti delle tre auto, una Smart, una Fiat Panda, una Lancia Ypsilon, fortunatamente senza gravi conseguenze. Solo uno di loro è stato trasportato da un'ambulanza del 118 a pronto soccorso dell'ospedale dell'Annunziata per un lieve taglio. Tutti gli altri sono rimasti a lungo sul ciglio della strada in attesa degli adempimenti ancora impauriti e spaventati per l'accaduto. La dinamica dell'incidente che ha provocato un tamponamento a catena è ancora tutta da ricostruire. Traffico a rilento lungo l'arteria stradale per diversi minuti con polizie e carabinieri che giunti sul posto per i rilievi di rito si sono occupati di gestire la viabilità.